Muovi i fili del diabete. Questo è lo slogan della giornata mondiale del diabete che si celebrerà a Licata il 12 novembre prossimo e il 10 novembre a Palma di Montechiaro. Quest'anno la campagna di comunicazione è rivolta principalmente alle persone con diabete e a chi sta a loro vicino e invita al cambiamento a scuotere i fili e muovere le leve che possono migliorare la qualità della vita delle persone con diabete. Scopo della giornata del diabete che viene celebrata in tutto il mondo il 14 novembre di ogni anno è quello di sensibilizzare ed informare l'opinione pubblica sul diabete, una patologia grave e diffusa che può essere prevenuta e curata grazie all'adozione di un corretto stile di vita o con semplici interventi farmacologici. Il distretto sanitario di Licata in collaborazione con la Croce Rossa italiana e il Tribunale per i diritti del malato nella giornata di giovedì prossimo 12 novembre allestirà un presidio diabetologico dove tutti i cittadini potranno ricevere del materiale informativo, consulenza medica qualificata ed effettuare gratuitamente l'esame della glicemia. Verrà anche compilato un questionario per sapere il rischio di contrarre tale malattia. Saranno dati altresì i consigli su un corretto stile di vita. La tenda della Croce Rossa italiana sarà presente giovedì prossimo 12 novembre dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18 presso il centro commerciale Il Porto di Corso Argentina. Martedì 10 novembre a Palma di Montechiaro presso il viale Pirandello dalle 10 alle 13.00.